Continuano gli interventi di finitura presso il cantiere del nuovo svincolo di connessione tra l'autostrada 19 Palermo-Catania e la nuova sede della statale 640 strada degli scrittori. Fino a venerdì 15 aprile, in fascia oraria diurna compresa tra le ore 7 e le ore 19, rimarrà chiusa la rampa di svincolo normalmente utilizzata per i veicoli provenienti da Catania e diretti ad Agrigento, Caltanissetta e Gela. Il percorso alternativo pertanto prevede di raggiungere il successivo svincolo Ponte Cinquearchi dove potere poi reimmettersi in autostrada in direzione Catania e uscire allo svincolo di Caltanissetta.